Progetto numero 14, scacchi a scuola. L'obiettivo del progetto scacchi a scuola è di promuovere il gioco dei scacchi nelle scuole, quale sport che favorisce una crescita intelligente, lo sviluppo mentale, la formazione del carattere e la creazione delle coscienze sociali. Gli scacchi hanno una doppia valenza, didattico-educativa per il legame con il materiale scolastico, ludico-sportiva per un buon utilizzo del tempo libero, per questo motivo che il valore del gioco dei scacchi è stato riconosciuto anche dal Parlamento europeo con la dichiarazione scritta numero 0050 2011 sull'introduzione del programma scacchi a scuola nei sistemi di istruzione dell'Unione europea, già adottata nei vari paesi con positivi risultati. Il laboratorio dei scacchi nelle scuole è per un maggiore sviluppo e un apprendimento per tutti i ragazzi. Votate il progetto scacchi a scuola, progetto numero 14. Grazie.